...velocemente le formazioni la Juventus con Audero che torna anche con fascia di capitano, lui che è il terzo portiere della prima squadra, Mattiello, Muratore, Coccolo e Rogerio in difesa, Maciac, Caligara, Mosti a centrocampo, Castanos, Ken e Leris da verificare chiaramente le posizioni di Castanos e di Mosti. All'inizio di questo match la Juventus attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, tutto pronto per l'avvio della sfida tra Juventus e Sassuolo, parte subito il ravvicinato però perde il contatto con il pallone della Juventus anche con un passaggio in orizzontale molto pericoloso, riparte il Sassuolo con la possibilità da parte di Caputo, zona tiro, il sinistro di Caputo, Audero dice di no, poi ancora lì, ancora Audero, questa volta con i piedi sul tentativo. Da tre quarti in su il Sassuolo, pallone che arriva in mezzo, trova la coordinazione giusta, zecca, trova dalle parti di Caligara, poi dentro, eccolo il suggerimento per Rogerio, uno sguardo a centro dell'area, Rogerio in mezzo, la possibilità, il tentativo e poi la risposta di Costa sul tocco ravvicinato di Mosti, non è finita, ancora Caligara dentro per Ken, deve girarsi, Ken! Il gol di Ken ma c'è la posizione di fuorigioco. Sposto in barriera da Emil Audero, il calcio di punizione con il pallone però calciato alto da Bruschi, ci ha provato con il pallone. Sale ora Castanossa, limite dell'area, Caligara, zona tiro, Caligara, il palo e poi si divora l'1-0, Rogerio della Juventus si stava complicando da sola la vita la squadra bianconera. Sale intanto Rogerio dentro per Ken, può partire Ken, il destro di Ken! E il pallone che termina sul fondo, non dimissione, allenata da Fabio Grosso che prova a sfruttare gli ultimi minuti di questo primo tempo. Il pallone che viaggia centralmente, ci prova, Rogerio! E il pallone che termina in rete, questa volta non sbaglia, il gol di Rogerio da Silva con il pallone all'angolino, 1-0 Juventus. La rete dell'esterno brasiliano che riesce a rifarsi dopo il gol divorato in precedenza, ci ha provato nella seconda circostanza, ha trovato la marcatura Rogerio. Rivediamo il mancino che muore lì all'angolino, gran gol da parte di Rogerio con il piede preferito, cosa che non ha utilizzato in precedenza. Il ghiaccio nel primo tempo, parte dunque la ripresa, le formazioni, il Sassuolo con Costa tra i pali, Gambardella, Erlich, Ravaleli. Intanto attenzione l'occasione per la Juventus, il tira il gol, subito, pronti via, sempre con lui, è sempre Moise Biondi-Kenn a portare in vantaggio la Juventus. Pronti via, ha bucato centralmente la difesa del Sassuolo e ha bucato anche il portiere Costa. Juve 2, Sassuolo 0, ancora con Ken e ancora lui l'assoluto protagonista. Ottimo avvio della formazione bianconero, sono partiti subito all'attacco. Qui Ken ha fatto una finta da grandissimo giocatore, ha sbilanciato il diretto avversario e poi ha tirato subito il portiere probabilmente un po'... Spinta anche da quelle che sono le indicazioni di Fabio Grosso, poi al limite dell'area ci prova Leris tra le braccia del portiere. È un aiuto fortunato l'anno scorso con un infortunio pesantissimo, il pallone che arriva centralmente. Colpo di testa con il tentativo poi nel disimpegno di Masetti. A sinistra con la possibilità per la Juventus con Medi Leris. Prova ad accendersi Leris dentro ora per l'inserimento di Muratore. Dentro Zekiri e il gol di Zekiri per il 3-0 ma viene fermato. C'è posizione di offside di Zekiri, si era portato praticamente lì davanti Zekiri. Rivediamo sul tocco di Muratore, posizione di offside del numero Gerio all'indietro. Ancora il tocco per Masetti, carica a destro, Masetti tra le braccia del portiere che con fondità per quanto riguarda Bianconeri. Il tocco ravvicinato proprio di Masetti, ancora Masetti dentro per Zekiri. La traversa del giocatore svizzero. Molta confusione a centrocampo, a terra anche Grigoris Castanostro ma seguiamo l'azione per quanto riguarda il Sassuolo. Al limite dell'area la possibilità del tiro a Udero. Riesce comunque con un guizzo ad allontanare Auto. In questo momento l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, vince la Juventus 2-0. Si interrompe dopo tre risultati utili consecutivi, dopo tre vittorie consecutive la marcia del Sassuolo. La Juventus che grazie ai gol di Rogerio e Ken balza in testa al mini raggruppamento con 10 punti.